Musica Buongiorno a tutti, bentrovati, coffee break estate, molti gli argomenti di cui parleremo oggi con i nostri ospiti, molti gli argomenti da affrontare, c'è in primo piano la questione del PNRR con la discussione in aula, ieri il ministro Fitto ha riferito con l'opposizione che è andata all'attacco dicendo siete in chiara difficoltà, fatevi aiutare se necessario, così è l'ischline, tutto quello che concerne poi la trattativa che ci sarà con l'Europa, sapete che abbiamo chiesto appena una settimana fa delle modifiche, l'Europa sembra orientata a venirci incontro, anche visto il buon rapporto esistente tra la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, ma chiede qualcosa in cambio, in particolare questa trattativa sembra in salita, perché l'Europa chiederebbe garanzie per quanto riguarda due riforme, una riforma in particolare quella della giustizia e garanzie sull'evasione fiscale, sono due punti sui quali l'Italia ha problemi perché frenano di fatto la crescita del nostro prodotto interno lordo. Di tutto questo parleremo, ovviamente tutto ciò che gira intorno alla politica, prima di presentare i nostri ospiti vi faccio vedere però le immagini che sono arrivate questa mattina, vogliamo cominciare con una buona notizia, buona per modo di dire perché sono rientrati in Italia con un volo speciale dell'aeronautica militare, gli italiani, i 36 che erano rimasti, che hanno chiesto di tornare dal Niger, che erano bloccati all'aeroporto di Niamèi, ecco le immagini di questa mattina. All'alba c'era anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, a bordo di quell'aereo sono saliti per richiesta loro e per concessione del nostro governo anche altri cittadini europei, americani, qualche militare che ha scelto di tornare con noi, altri 262 sono tornati a bordo di un aereo francese in Francia, altrettanti con cittadini di Macron rimasti bloccati, tutto questo mentre Niamèi allo scalo aeroportuale è il caos, tutti quelli che possono e vogliono abbandonare il paese lo stanno facendo, sintomo che la situazione non è affatto in via di definizione come qualcuno vuol far credere. Allora, saluto subito i miei ospiti partendo da Enrico Borghi, senatore di Azione Italia Viva, per Forza Italia invece il deputato Raffaele Nevi, buongiorno, ben trovato, anche ad Andrea Cangini che è il segretario generale della Fondazione Inaudi, nonché collega, ben trovato, collegati con noi il politologo Marco Revelli, Revelli buongiorno, buongiorno, e Claudio Bertolotti analista dell'ISPI al quale chiedo subito, tanto per esaurire il discorso Niger, le immagini che abbiamo visto questa mattina, non tanto quelle dello scalo di Ciampino con il rientro di italiani, ma quelle di Niamèi con un aeroporto nel caos, con tutti quelli che possono, che stanno cercando di rientrare nei propri paesi, perché, come dicevamo, la situazione non sembra affatto delle migliori. Ecco, che cosa ci dobbiamo aspettare? Qual è la situazione, secondo lei, nelle prossime 24 ore, perché gli sviluppi sembrano andare anche abbastanza rapidamente, che cosa dovremmo attenderci su quel fronte? Buongiorno e grazie. I prossimi ore, i prossimi giorni saranno quelli decisivi per cercare di capire quale sarà il quadro che potrebbe svilupparsi. In questo momento il golpe in atto ha, come dire, partorito una forma di autorità che garantirebbe una sorta di monopolio della forza che di fatto potrebbe garantire di fatto anche una cornice di sicurezza. È vero, però, che le preoccupazioni sono tante ed interessano sia gli attori interni, quindi quanto la popolazione potrà essere spinta a sostenere o a opporsi alla giunta militare che si è autoproclamata governo del paese, e quanto gli attori esterni garantiranno e di fatto saranno in grado di sostenere la stessa giunta. Oltre a questo ci sono alcune dinamiche che si muovono più sul piano diplomatico ma che potrebbero avere anche conseguenze sul piano militare che coinvolgono gli attori regionali, quindi i paesi che confinano con il Niger, ma ancora di più quei paesi che hanno interessi diretti, dalla Francia ai paesi dell'Unione Europea, gli Stati Uniti in primis, ma ancora di più l'incognita russa che potrebbe determinare alcune dinamiche violente o di opposizione a qualunque tentativo di andare a toccare, a indebolire la giunta militare appena insediata. Senta Bertolti, glielo chiedo senza tanti giri di parole. Dobbiamo attenderci da qui a qualche anno, l'ennesima guerra per procura in Niger, questa volta tra due blocchi contrapposti, quello occidentale rappresentato anche dagli stati alleati dell'Occidente lì nella regione e quelli sostenuti invece da qualcun altro? Questo è un rischio, è un rischio potenziale, perché da un lato abbiamo un attore come la Russia che ha interessi espliciti, chiari e noti a tutti in termini di influenza, ma anche in termini di approvvigionamento di materie rare, risorse energetiche, ma anche di supporto di quei paesi che, sostenuti dalla Russia, restituirebbero e restituiscono già oggi quel supporto in sede di Assemblea delle Nazioni Unite. Quindi è un gioco delle parti che potrebbe portare a un coinvolgimento diretto, come tutti i conflitti ai quali abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni, le guerre per procura, il ruolo di attori terzi e in particolare il ruolo di attori non statali potrebbero determinare un collasso dell'attuale situazione che, ripeto, in questo momento è ancora stabile, ma non sappiamo per quanto tempo e per forza di cose dipenderà da quelli che saranno gli input interni e esterni di cui abbiamo parlato. Grazie Bertolotti. Prima di fermarci per il nostro primo spot pubblicitario, volevo fare un giro tra i nostri ospiti in studio e non solo. Quanto vi preoccupa questa situazione a livello politico, Borghi? Sì, è una situazione preoccupante perché il Niger è molto più vicino all'Italia di quanto possa apparire, sia per questioni di principio, sia per questioni economiche, sia per questioni legate ai flussi migratori. In questioni di principio ricordiamoci che il presidente Bazoum è uno dei pochi che nel quadro europeo risulta essere stato regolarmente eletto in un sistema democratico e quindi è in atto anche un tentativo di delegittimazione di un modello di democrazia. Poi c'è un tema di carattere più prettamente economico, il Niger è una delle realtà da cui proviene l'uranio che contribuisce a far funzionare il sistema nucleare francese dal quale ci approvvigioniamo anche noi. C'è il tema delle terre rare a cui si faceva riferimento in precedenza. In Niger dovrebbe passare, avrebbe dovuto passare il futuro gasdotto tra la Nigeria e le sponde africane del Mediterraneo per portare in Europa il gas che oggi arriva con le navi in forma di gas liquefatto e il Niger è uno snodo del traffico internazionale di esseri umani. E quindi capiamo che questa è una questione che tocca da vicino l'Europa. Non ultimo, in Niger ci sono 350 nostri militari, 1000 militari americani, 1500 francesi. Quindi è un presidio anche strategico rispetto al quale dobbiamo mantenere alta l'attenzione e dobbiamo rispondere come Europa. Dovrà rispondere anche il governo Meloni in qualche modo a questa nuova necessità. Nel momento in cui Giorgio Meloni stava cercando di risolvere il problema africano è un paso molto difficile in cui adesso un pezzo viene meno. Sì, ma io sono d'accordo con Borghi sulla strategicità del Niger anche per l'Europa e io penso che il Niger sia proprio l'esempio di quanto l'Europa si debba occupare di più di Africa perché l'Africa è strategica per tutti i motivi che ha appena detto il collega Borghi e quindi io penso che il governo italiano stia facendo bene a lasciare aperta l'ambasciata a cercare di costruire le condizioni per rintrecciare una tela diplomatica a cercare di risolvere la vicenda nigeriana con la politica e non con le armi. Certamente non è semplice per tantissimi motivi, anche di errori fatti da alcuni nostri partner europei in passato però adesso dobbiamo guardare avanti, dobbiamo essere uniti come Europa e dobbiamo cercare di svolgere un ruolo maggiore. Questo per noi è un asset strategico per il governo Meloni, per la maggioranza di centrodestra occuparsi dell'Africa in maniera nuova e diversa, migliore rispetto a quanto abbiamo fatto nel passato e coinvolgere forse anche gli Stati Uniti e tutto l'Occidente sulla questione africana altrimenti non possiamo lamentarci se fanno un passo avanti i russi o i cinesi. Forse anche, lo chiedo a Cangini, cercare di prevenire le mosse di qualche partner europeo che, lo dico senza timore di essere smentito, la Francia in questo caso prende delle iniziative che poi rischiano di scatenare quello che è successo in Niger senza ovviamente avvisare il partner. Quello che è successo risponde a due spinte. La prima, Putin sta cercando di ottenere i risultati che non ottiene un'Ucraina sul terreno africano attraverso la Wagner. sta destabilizzando tutti i paesi della fascia subsahariana del Sahel il Sahel è il cuore dell'Africa, se collassa il Sahel collassa l'Africa e per noi, per le regioni che stavano prima, sarebbe un disastro. L'altra è la politica muscolare, per così dire, della Francia che come già accaduto altre volte in passato ottiene risultati contrari a quelli auspicati. L'Europa, lo dico d'europista convinto, sarebbe bello se l'Europa potesse intervenire ma non avendo una politica di difesa l'Europa non ha una politica estera e quindi gli appelli all'Europa rischiano di essere pura retorica e allora sono i singoli stati in un quadro di condivisione internazionale a doversi far sentire. Meloni, l'attuale governo italiano, aveva organizzato una conferenza sull'Africa importante proprio al fine di contenere il fenomeno migratorio che aveva nel Niger uno degli architravi e se cade quello, cade quella prospettiva. Quindi abbiamo tutto l'interesse a stabilizzare quell'area dell'Africa. Allora, voglio sentire anche l'opinione di Marco Revelli ma ci dobbiamo fermare, come è annunciato. Allora lo faremo subito dopo il break. Restate con noi a qualche minuto e torniamo. Il problema qui non è il PNRR Il problema qui è la vostra più totale incapacità di gestire è un serio piano di investimenti e sviluppo. Avete messo a terra solo 2 miliardi sui 33 previsti per il 2023. 2 su 33. Avete portato a casa una terza rata zoppa e ha comunicato anche oggi un definanziamento di 16 miliardi. Cancellando i piani urbani integrati. Addio al progetto di riqualificazione di Scampia. Addio a Bari, al parco della rinascita, al posto della fabbrica dell'Amianto. Addio a Fiumicino, alla rigenerazione di un palazzetto dello sport che cade a pezzi. E addio al polo scolastico del Ponente a Genova. Ci state rubando futuro. Quello che è accaduto sulla terza rata ne abbiamo fatto tesoro rispetto alla quarta rata. E questo lo voglio indicare anche in riferimento alle modifiche della quarta rata. Non è un caso che la Commissione europea abbia approvato queste modifiche avviando una fase che per dichiarazione stessa della Commissione europea consentirà al nostro Paese di ricevere i 35 miliardi della terza e della quarta rata che sono l'intera somma relativamente all'assegnazione di queste risorse. Alla fine questo PNRR è stato anche un gigantesco tentativo di avvelenare i pozzi da parte di un governo di sinistra che sapeva che se ne stava andando e che, come dire, ha creato una burocrazia parallela e una struttura che, diciamo così, non poteva che mettere in difficoltà il governo successivo. È troppo semplice e anche un po' pilatesco pensare di dire ma guardate ai governi precedenti, anche perché, Ministro Fittol, quasi la maggioranza del governo di cui lei fa parte, ci sono forze politiche che il governo Draghi lo hanno sostenuto, che hanno fatto il PNRR. Allora, questo è quello che è successo poi ieri in aula. Revelli, è curioso che poi sia l'Europa di fatto a spingerci a fare una riforma della giustizia perché questo di fatto ci stanno chiedendo che ha un binario piuttosto complicato in Italia. Prima però mi dica se la questione Niger rischia di complicare quello che Giorgio Meloni ha rivendicato come un primo risultato nella ridefinizione dei rapporti con i paesi africani. Sicuramente le notizie che arrivano dal Niger sono pessime notizie. Sono pessime notizie per l'Europa, sono pessime notizie a maggior ragione per l'Italia che è in prima linea sul fronte del Mediterraneo che ha giocato molte carte sull'Africa. Se salta quella cerniera, la cerniera del Sahel, ne vedremo delle belle, possiamo dire, sia sul versante dei flussi migratori, sia sul versante del disordine, del caos che rischia di generarsi in Africa a partire dal suo baricentro. Sono notizie di queste ore che c'è un rischio di guerra interafricana per certi versi. Burkina Faso e Mali si sono già schierate con i golpisti. La Nigeria che confina Sud col Niger è invece contraria. Ci mancherebbe ancora un intervento muscolare di Macron e della Francia per gettare benzina sul fuoco. E credo che sia giusto cercare di scoraggiare il più possibile questo scomodo alleato sulle questioni africane. Perché quello a cui stiamo assistendo nel centro Africa è il fallimento della politica francese. Sono gli ultimi colpi di coda di un colonialismo che non si rassegna a riconoscere la propria fine. Il fatto stesso che ci siano tutte quelle truppe, non solo francesi, in quei territori dimostra una volontà di continuare con quella logica coloniale. E allora, come dire, sull'Europa io non mi faccio grandi illusioni. Pensare a un'Europa capace di una politica adeguata alla sfida che l'Africa lancia vorrebbe dire cercare di tirar fuori sangue da una raffa. L'Europa non è riuscita a elaborare una propria politica estera di fronte alla gigantesca tragedia ucraina. Però mi dica se l'Europa, per esempio, sui soldi, in questo caso quelli del PNRR, ci fa più un favore o una scortesia chiedendoci alcune riforme. Beh, presenta dei conti, presenta dei conti, come dire, legittimamente, essendo l'Europa che versa questi ponti. Io non ho capito bene il ragionamento del senatore Bagnani sul governo di sinistra che aveva preparato il PNRR, l'ha preparato il governo Draghi, che era un governo trasversale, mancava solo Fratelli d'Italia, ma la Lega e Forza Italia facevano parte di quel governo. hanno sottoscritto le caratteristiche di quel PNRR, che oggi, sia per i ritardi, sia per l'incapacità fisiologica del nostro Paese a gestire processi complessi con la propria burocrazia, rischia di sbilanciarsi. Saltano i flussi in arrivo verso i territori, quei flussi di ossigeno che avrebbero potuto dare fiato ai territori in difficoltà, pensiamo al dissesto idrogeologico, pensiamo a tutti i casi che avrebbero potuto essere risanati, e favorirà i grandi, ancora una volta, le grandi piattaforme, le grandi industrie, quei giocatori nel grande gioco, nella grande partita di risico, che hanno le spalle larghe e sono in grado di gestire le procedure estremamente complesse di questo piano. Sarà un'ulteriore spinta alla diseguaglianza, anche territoriale, del nostro Paese. Allora, ecco, siamo entrati in zona PNRR, il grande tema di cui parleremo probabilmente per i prossimi due anni, perché si gioca su questo il futuro, della crescita del nostro Paese. Borghi, quello che ha detto il Ministro Fitto ieri in aula è condivisibile, vedete i punti di criticità, a parte quelli segnalati all'Ishline, che segnalava adesso anche Marco Revelli. Partiamo da una rapidissima illustrazione di che cos'è il PNRR, perché altrimenti rischiamo di andare dentro un teatrino della politica che non produce degli effetti. Il PNRR è un piano di ripartenza che noi siamo andati a chiedere all'Europa, cioè all'indomani della più grave crisi sanitaria ed economica dal dopoguerra, in maniera quasi corale tra accenti polemici, da un lato, e invocazioni speranzose dall'altro, tutti abbiamo chiesto un intervento dell'Europa che ha fatto quello che mai nessuno immaginava potesse fare, cioè ha deciso di indebitarsi per venire incontro ad una serie di Paesi che erano stati particolarmente colpiti. E in questo senso ci siamo impegnati, noi italiani, a effettuare una serie di riforme, di modifiche, di modernizzazione del nostro sistema. Ora invece, sembra che appaia che il PNRR sia un po', mi passi la metafora, come l'albero della cuccagna che si fa dalle mie parti alla festa patronale, cioè una sorta di ricco premio che prende chi è più abile ad arrivare in cima al palo, facendo finta di non affrontare il nodo vero che è quello della modernizzazione del sistema, quindi giustizia, pubblica amministrazione, riforme... Europa ce lo sta ricordando giorno dopo giorno, però adesso c'è una trattativa che dovrà essere svolta su questo. E quindi, siccome dietro le parole del senatore, oggi deputato Bagnai, c'è già la PS scritta, c'è l'attacco, la cattiva Europa che non ci mette in condizione di poter intervenire, allora bisogna che qui prendiamo il toro per le corna. Il governo è in condizione veramente di fare le riforme di settore che sono propedeutiche alla spesa, perché altrimenti il gioco di fitto delle tre carte che fa ogni volta che viene in aula e che oggi ha comunque un saldo negativo, perché hai bel dire a spostare 16 miliardi di interventi dal PNRR al FSC Fondo Sviluppo e Coesione e ai fondi strutturali. Il saldo per il Paese è meno 16. Se poi buttiamo i comuni nella condizione di incertezza perché io ho fatto l'amministratore se domani mattina c'è una legge dello Stato che mi dice che quell'appalto che sto per fare non è più finanziato e che dovrò attendere il finanziamento quando lo Stato avrà deliberato l'FSC io non appalto più. È chiaro. Posso chiedere una cosa Raffaelevi la stessa che ho chiesto poi a Marco Revelli di fatto l'Europa con queste sue critiche di fatto non ci sta facendo un favore al governo Meloni sulla riforma della giustizia per esempio ci chiedono di andare più spediti di completare questa riforma c'è un nodo da affrontare in questo caso sembra che la strada si spiani o non è così? ma allora per quanto riguarda l'interlocuzione con l'Europa devo dire che i rapporti sono veramente straordinari mi scusi quello che vuole dire il ce lo chiede l'Europa non vale più in questo caso? No ma noi abbiamo già concordato una serie di riforme con l'Europa alla base della concessione dei fondi del PNRR quindi stiamo andando avanti in parte sono state fatte delle riforme le stiamo facendo continuamente nei tanti decreti che approviamo un po' diciamo all'ombra del grande dibattito politico ci sono delle semplificazioni delle norme nuove che mettiamo proprio per agevolare i lavori e la risoluzione delle problematiche per la spesa dei fondi del PNRR dopodiché noi abbiamo un tema fondamentale il PNRR ha una scadenza che è 2026 il governo Meloni in modo molto serio anche molto pragmatico e con la spinta forte di tutta la maggioranza a cominciare da Forza Italia ha fatto una ricognizione di quelle opere che possono andare a diciamo essere collaudate entro il 2026 e quelle opere che invece non ce la faranno mai e quindi piuttosto che perdere i soldi quelle opere verranno finanziati con altri fondi e noi inseriremo all'interno del PNRR linee di finanziamento che possono invece andare a buon fine entro il 2026 e tutto qui cioè l'operazione che sta facendo il governo è un'operazione che noi abbiamo spinto molto cercando di far capire alla Commissione europea che era necessaria la flessibilità questo tentativo è andato a buon fine quindi c'è una buona notizia sottolineata anche dall'Europa e quindi ci sarà una revisione in questo senso abbiamo già fatto un lavoro sulla terza rata abbiamo spostato dei fondi sulla quarta rata non abbiamo perso un centesimo allora io capisco che l'opposizione cavalca una questione che non è semplice no? perché spendere questa montagna dei soldi entro il 2026 ma questo non è che lo diciamo noi adesso lo diceva Draghi lo dicevano lo dicono da sempre tutti non è un'operazione non è un'operazione no noi abbiamo sempre detto che non è un'operazione semplice che è necessaria grande attenzione un monitoraggio costante e un'interlocuzione stretta con la Commissione europea il governo sta andando avanti in questa direzione quindi dovremmo gioire alcune opposizioni non tutte perché alcune altra parte dell'opposizione è molto più diciamo così aperta alla collaborazione buttano la palla in tribuna e dicono ah perderemo tutto un disastro e l'opposizione fa il suo mestiere però in realtà se noi guardiamo anche le dichiarazioni di Gentiloni e della Presidente von der Leyen ci dicono un'altra realtà cioè il governo sta facendo bene sta andando nella direzione ospicata mi sembra che da questo punto di vista ci sia un rapporto molto stretto e anche molto cordiale tra Ursula von der Leyen Presidente della Commissione e Giorgio Meloni a parte l'aspetto personale mi sembra che tutto questo sia dettato anche dalla necessità in vista delle prossime elezioni europee di raccogliere dei voti che alle scorse elezioni la von der Leyen non aveva può essere una chiave di lettura questo o c'è veramente un buon rapporto perché l'Europa si fida dell'Italia e di quello che il governo italiano sta promettendo i rapporti personali contano in politica ma contano in più i rapporti politici c'è un calcolo da parte di entrambe le personalità della von der Leyen e della Meloni è un po' paradossale se vogliamo perché il partito della Meloni non votò la von der Leyen nel suo tempo raccontò quell'accordo di larghe intese parteciparono persino i grillini come una sorta di inciucio tra destra il partito popolare e le sinistre con la collaborazione del Movimento 5 Stelle tutto è cambiato l'antieuropeismo fortunatamente l'antieuropeismo che ha caratterizzato per dieci anni i fratelli d'Italia è svanito è svanito grazie anche all'emergenza ucraina grazie anche a Forza Italia grazie anche a Forza Italia se vuoi ma insomma penso che le cose sarebbero accadute a prescindere diciamo abbi pazienza e questa è una buona notizia per il paese il tema PNRR prescinde da questo governo obiettivamente noi abbiamo sempre avuto dei problemi clamorosi strutturali di gestione dei fondi europei perché abbiamo una pubblica amministrazione che non funziona e livelli di amministrazione che non si parlano siamo stati il paese dell'eurozona che ha chiesto più soldi e ottenuto più soldi il quadruplo della Germania il doppio della Spagna più di 200 miliardi soldi che vanno restituiti e ricordiamolo sempre siamo il paese che meno è in grado di spendere i soldi quindi che ci fossero che ci sarebbero stati dei problemi era fisiologico indipendentemente dalla qualità dei governi purtroppo credo che sia stato un errore a monte il governo Conte chiedere tutti questi soldi conoscendo i difetti proprio strutturali del nostro paese perché è vero che molti sono a fondo perduto e va bene ma altri sono prestiti a tasso quasi zero ma bisognerà rimborsare se questi investimenti non creano crescita in pari misura faranno debito e già siamo il paese dell'eurozona con maggior debito pubblico e questo rischia di essere un problema colossale diciamo per il paese Giro la stessa domanda anche a Marco Revelli la chiave delle elezioni europee da qui a un anno rischia di diventare la chiave di lettura per tutti gli eventi politici italiani inclusi i rapporti tra l'Europa e il governo Meloni o meglio quello che l'Europa chiederà al governo Meloni e con quanta durezza diciamo tra virgolette poi esigerà i risultati? Sì purtroppo sì questa lunga campagna elettorale per l'Europa dal punto di vista della composizione del futuro Parlamento sia dal punto di vista della presidenza e del ruolo che gioca Ursula von der Leyen peseranno e questo non è un bene perché saranno un intralcio io credo un fattore di confusione una come dire una variabile esterna che interviene nella scelta delle politiche sia delle decisioni europee sia delle decisioni italiane credo che noi avremo un anno piuttosto complicato da questo punto di vista l'Italia sarà chiamata a rispondere ad alcune questioni queste sì davvero importanti la giustizia è un tema fondamentale e la giustizia non è quella su cui sta lavorando il ministro nordio non è tanto la giustizia sul versante penale è tutta la parte civilistica della nostra giustizia che fa acqua sono i tempi spaventosi dei procedimenti civili sono l'impossibilità di far valere un contratto di far valere un debito di farsi valere nel sistema delle transazioni che poi è il motivo per cui tanti investitori stranieri non vengono in Italia io non vedo nessuna idea di semplificazione di accelerazione dei tempi dei nostri processi e rimane una macchia sul nostro paese che frena gli investimenti che tiene lontani gli innovatori per certi versi e che rende la vita difficile agli italiani assolutamente su questo volevo sentire anche Claudio Bertolotti tra un attimo perché dobbiamo fermarci appena qualche istante per la pubblicità insieme Bertolotti glielo anticipo qualche cosa su quello che sta succedendo e succederà negli Stati Uniti abbiamo parlato di elezioni europee poi ci saranno quelle in America con Donald Trump che continua a insistere è tornato all'attacco anche stamattina dicendo vinceremo la Casa Bianca ma intanto già domani dovrebbe presentarsi di fronte a un giudice a Washington per rispondere della sua terza incriminazione quattro capi di imputazione questa volta molto più seri rispetto al caso Stormy Daniels per aver complottato contro gli Stati Uniti d'America per l'assalto al Congresso qualche istante di pausa subito dopo e poi e poi siamo tornati in diretta nello studio di Coffee Break estate eravamo rimasti da Claudio Bertolotti analista dell'ISPI perché le notizie di questa notte ci raccontano di un Donald Trump infuriato che nonostante tutto è tornato all'attacco a meno verbalmente dicendo comunque vinceremo la Casa Bianca ingerenza totale dei giudici ha detto Trump proprio al ridosso della campagna per le presidenziali alle quali lui ovviamente parteciperà terza incriminazione per questo assalto che stiamo rivedendo a Capito Lill immagini del gennaio 2021 che nessuno dimentica Bertolotti le chiedo questo quanto incide intanto le do una notizia riguardo al Niger perché è appena arrivata la leggiamo insieme Tagliani ministro degli esseri italiano Antonio Tagliani dice è escluso l'intervento militare in Niger e parla di intervento militare occidentale perché sarebbe vista come una nuova colonizzazione a lei partirei dunque dalla questione legata alla candidabilità o meno del presidente Trump che a quanto pare non sembra essere messa in dubbio dalla situazione che lo vede imputato tra l'altro non soltanto per aver in parte sostenuto o fomentato ecco fomentato quello che fu l'assalto a Capito Lill ma anche per cospirazione per frode nei confronti del del popolo americano usando la disonestà e l'inganno al fine di ostacolare il processo nazionale di certificazione dei risultati delle elezioni presidenziali secondo lei questo è il capo di imputazione più grave per lui questo di aver cospirato contro gli Stati Uniti credo che sia il più rumoroso se possiamo usare questo termine quello più interessante dal punto di vista mediatico gli altri capi quelli relativi all'aver distratto fondi della campagna elettorale per pagare una una testimonia la pornostar con cui avrebbe avuto una relazione sì è importante ma è ormai passata in secondo piano perché gli eventi ormai sono andati oltre Trump è un personaggio che si è sempre imposto attraverso una questa figura molto accattivante nei confronti dei suoi elettori potenziali in particolare in particolare di tutta quella frangia che è minoritaria ma è molto rumorosa che appartiene alla frangia dei cospirazionisti dei negazionisti frange estreme e anche periferiche della società americana che però sono riuscite ad incidere in maniera importante su quello che è stato la veicolazione del suo messaggio cioè quello di essere vittima di un sistema e Trump così si presenta e continuerà a presentarsi durante la sua campagna elettorale quindi credo tutto sommato che possa essere visto come un punto di forza che verrà sfruttato da Trump quindi anche la rabbia che lui manifesta in questo senso è una rabbia contro l'ingiustizia che starebbe subendo e questo va ad alimentare il sostegno da parte di quello zoccolo duro dell'elettorato che lo ha portato alla carica presidenziale alle precedenti elezioni e che oggi potrebbe potrebbe anche garantirgli possibilità di successo specialmente guardando a chi potrebbe essere contrapposto dovrebbe essere contrapposto a Trump Joe Biden che è un presidente tra l'altro quando sento parlare di vittima della giustizia ovviamente ci vengono in mente i casi italiani ci vengono in mente il caso Berlusconi diverse le campagne elettorali lo chiedo a lei Nevi solo perché in Forza Italia è un plot che già conosciamo bene nel nostro paese che a volte ha pagato a volte no nel caso di Berlusconi forse inizialmente ma alla fine come si è visto le inchieste sono andate avanti alcune sono arrivate a compimento altre meno ma insomma è stato un tema di campagna elettorale per tante volte ma diciamo che la vicenda Berlusconi mi pare che ormai anche dopo la morte del presidente si possa valutare con maggiore serenità possiamo anche archiviarla intendo dire che Trump non sta facendo altro che copiare tutti gli osservatori però mi consenta indipendenti e serici dicono che insomma quando ti partono dei processi il giorno dopo che entri in politica evidentemente quello ha inciso pesantemente sulla vicenda in questa situazione vabbè la questione è un po' diversa quindi negli Stati Uniti poi c'è tutto un meccanismo anche diciamo dell'opinione pubblica che è completamente diverso dal nostro quindi sì si possono fare delle similitudini ma insomma i casi direi che sono molto diversi ecco infatti non a caso stavo chiedendo a Bertolotti se quella fosse l'accusa più grave perché invece per un americano sentir parlare di cospirazione e danni negli Stati Uniti d'America forse è più pesante rispetto ecco al caso Stormy Daniels e dintorni vi devo dare conto anche delle parole del capo dello Stato Sergio Mattarella che non a caso nell'ultimo messaggio nella cerimonia del ventaglio a noi giornalisti ha ricordato che i due poteri quello giudiziario e quello legislativo devono rimanere ben separati e che non esiste un contropotere a quello giudiziario parole che vanno pesate e che sono sempre molto misurate quelle del capo dello Stato che oggi invece ha voluto dare il suo messaggio per l'anniversario della strage di Bologna ricordiamola era il 2 agosto del 1980 la matrice neofascista della strage è stata accertata nei processi sono venute alla luce coperture e ignobili depistaggi cui hanno partecipato associazioni segrete e agenti infedeli di apparati dello Stato è uno dei passaggi che il capo dello Stato ha voluto mandare in ricordo di quello che è successo alla stazione di Bologna 43 anni fa e le commemorazioni oggi vanno avanti non so se abbiamo ancora le immagini di alcuni momenti lo vedete in diretta dalla stazione di Bologna capo dello Stato sempre molto misurato scusatemi chiedo Borghi il capo dello Stato come si sta muovendo invece secondo lei sotto traccia su PNRR azione del governo da questo punto di vista? ho premesso che il capo dello Stato non va giudicato ma va ascoltato e quindi noi abbiamo ascoltato con grande attenzione le parole che il presidente Mattarella ha rivolto sulle vicende a cui lei fa riferimento il nostro atteggiamento in aula rispetto al tema del PNRR ha elaborato una riflessione che tiene conto anche dell'appello che il presidente ha fatto circa il fatto che il PNRR non è del governo protempore non è delle forze politiche che ci sono in Parlamento ma è del Paese e quindi ciascuno nell'ambito della propria competenza e delle proprie responsabilità riprendo la frase del presidente Mattarella che rievocava De Gasperi ciascuno si deve mettere alla stanga ovviamente portando il proprio contributo a seconda delle proprie opinioni per quel che riguarda invece le parole sul 2 agosto mi sembrano parole da scolpire nella roccia insomma verità e memoria a mio giudizio sono il fondamento dell'identità di un Paese la verità deve affiorare fino in fondo e a noi spetta il compito di fare memoria parole alle quali aggiungiamo quelle di Ignazio La Russa presidente del Senato in seconda carica dello Stato La Russa ha commentato poco fa vile attentato col più al cuore l'Italia adesso torniamo sui temi principali che riguardano la politica italiana prima però voglio sentire anche Paolo Sottocorona che ci ha raggiunto Paolo buongiorno 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 allora abbiamo un passaggio di nuvole ma molto a nord vedete sfiorano le zone alpine queste sono quelle che sono passate ieri oggi ne passa un altro un altro gruppo un'altra perturbazione tra virgolette perché sono quelle estive insomma però questo significa che qui c'è un passaggio c'è una strada la famosa porta di nord-est che si sta aprendo e quindi entreranno queste perturbazioni sempre con le virgolette ma vedrete che insomma non sono proprio da prendere sotto gamba e quindi anche il tipo di aria che interesserà l'Italia sta cambiando non tanto nella giornata di oggi perché oggi sostanzialmente c'è qualche debole precipitazione sulle zone alpine poi sull'Appennino settentrionale ma questo è abbastanza normale è un ciclo fisiologico diciamo anche al sud arriva qualche debole nuvola ma fenomeni intensi no domani qualcosa c'è ed eccolo qua tutte le zone del nord compresa anche la parte dell'Appennino settentrionale quello tosco-emiliano quello che va verso la Liguria con qualche fenomeno intenso fenomeni intensi isolati sul nord-est ma sul nord-ovest scusate sul nord-est invece le precipitazioni sono più estese moderate e fra Veneto e Friuli Venezia Giulia anche queste zone in giallo e rosso che indicano fenomeni intensi precipitazioni abbondanti abbondantissime diciamo nelle 24 ore quindi essenzialmente temporali e quindi questa porta si è aperta nella giornata di venerdì continua questa instabilità a toccare tutto il nord anzi si intensifica perché le zone fra il giallo e il rosso cominciano a essere molte e poi una parte andando verso est arriva a toccare anche le zone del centro marginalmente quelle del versante tirrenico ma sul versante adriatico fra Umbria e Marche per esempio qualche fenomeno un po' più intenso c'è quindi è una fase che poi passerà abbastanza rapidamente ma come dicevo perché arrivino queste perturbazioni significa che il flusso è sicuramente diverso intanto per oggi le temperature massime toccano valori relativamente elevati 35-36 gradi soltanto fra la Sicilia e le zone del Gargano sulle altre regioni valori di tutto diciamo di tutta normalità per la stagione per ora però queste temperature qualche giorno fa hanno portato poi il Parlamento a occuparsi anche di questo prima di fermarci per l'ultimo break una piccola pausa a caffè avete il decreto caldo al Senato Borghi quando? è iscritto all'ordine del giorno si discuterà tra domani e venerdì domani e venerdì qualche istante di pausa tra poco ben trovati ancora in diretta nello studio di Coffee Break estate vi leggo subito un'agenzia perché riguarda Papa Francesco sapete questa mattina avete visto la partenza da Roma Fiumicino destinazione Portogallo a ovest Lisbona dove incontrerà i giovani per la giornata mondiale della gioventù credo che Papa Francesco sia appena arrivato lo stiano aspettando all'aeroporto eccolo qui la stampa pronta appena vedremo il Papa sbarcare magari riusciremo a proporvi qualche passaggio del suo arrivo ecco questa è la pista dell'aeroporto aereo che dovrebbe arrivare a momenti per il momento torniamo in studio abbiamo toccato un po' l'argomento PNRR c'è un altro che però agita la maggioranza di governo per come è stata gestita la questione reddito di cittadinanza è fuori dubbio che tutto questo tutto quello che sta succedendo fosse nel programma e che il governo stesso abbia preso dei voti sulla base di questo programma forse la gestione della dismissione della misura per tutti i percettori poteva essere amministrata meglio questo dice l'opposizione ma intanto ci sono delle ricadute su chi gestisce a livello comunale queste persone Borghi parto da lei ma il fatto di avere mandato un sms in questi termini ha dato la sensazione di un abbandono da parte dello Stato da parte delle istituzioni e questo è già di per sé un errore un messaggio che deve essere assolutamente modificato dopodiché c'è chiedo scusa un equivoco di fondo che sta venendo a galla attorno alla natura del reddito di cittadinanza e cioè il fatto che si è interpretato questo strumento senza chiarire se fosse realmente un percorso di accompagnamento all'interno delle transizioni delle modificazioni del mondo del lavoro o se fosse uno strumento di ausilio e di supporto sociale se è il secondo caso come dice quell sms che manda i cittadini nei comuni parlate con i servizi sociali allora qui bisogna fare due cose uno bisogna ripensarlo recuperando l'idea di quel reddito di inclusione che facemmo nel 2017 e che andava esattamente nella direzione di integrare un intervento straordinario di misura contro la povertà con i servizi sociali e la rete dei comuni secondo non bisogna abbandonare i comuni dentro le complessità della gestione di un fenomeno di questa natura perché cosa vuole che faccia il povero sindaco che si sente bussare alla porta da persone che hanno bisogno in un momento nel quale hanno già fatto i bilanci non hanno le risorse e siamo ad agosto ecco questa situazione oggettivamente non regge e per questo abbiamo chiesto al governo di intervenire in aula per questo oggi pomeriggio la ministra Calderone risponderà da noi al Senato perché è evidente che questa situazione non si può chiudere con una scrollata di spalle risponderà ma poi ovviamente credo che la posizione del governo non cambi poi tanto le volevo chiedere invece Nevi per quanto riguarda la questione taxi abbiamo letto oggi sui giornali che il governo si starebbe muovendo su una linea pericolosa per quanto riguarda il consenso dei tassisti una linea sempre respinta cioè il raddoppio delle licenze e delle ore da lavorare è evidente che il problema esiste l'abbiamo segnalato l'abbiamo parlato qui in altre trasmissioni il problema esiste e va affrontato ma è anche evidente che andiamo per esempio a Roma verso un giubileo e che quindi certe posizioni non possono più essere tenute interviene l'antitrust o meglio ha detto che interverrà da questo punto di vista come ci muoviamo intanto credo che sia atterrato l'aereo di Papa Francesco ho visto nelle immagini forse l'aereo che si stava avvicinando a Lisbona forse è scortato eccolo qui l'aereo di Ita Airways che porta il Papa a Lisbona ci torneremo quando arriverà Nevi per quanto riguarda la questione del reddito di cittadinanza volevo dire insomma una cosa forse che non si dice spesso cioè il reddito di cittadinanza è fallito perché doveva essere una misura a tempo per portare quelle persone verso il mondo del lavoro oggi abbiamo un mondo del lavoro che richiede personale il personale non si trova e quindi noi abbiamo fatto un provvedimento che diciamo elimina il reddito di cittadinanza solo agli abili al lavoro per quanto riguarda gli inabili al lavoro quelli che hanno difficoltà ultra sessantenne con disabili a casa con figli a carico è chiaro che invece il reddito continua quindi qui stiamo parlando di una limitata platea a settembre verranno avviati i corsi di formazione io penso che oggi se uno è abito al lavoro e vuole lavorare il lavoro lo possa trovare io penso che dobbiamo diciamo svoltare rispetto a un'impostazione che invece scoraggiava l'ingresso nel mondo del lavoro perché appunto il reddito di cittadinanza alla fine ha fatto questo e è chiaro che poi se uno si abitua ad avere i soldi e non fare nulla è evidente che quando un giorno gli dicono è finita ci sono le proteste quindi ecco su questo ci tengo perché insomma poi dopodiché bisogna migliorare gestire meglio le questioni l'Inps i comuni benissimo tutto però insomma il principio fondamentale è un principio secondo noi assolutamente giusto no no scuotevo la testa perché stavo guardando stavo guardando ancora il segnale delle immagini che arriva da Lisbona dopo ci torneremo avremo tempo di rivedere Papa Francesco durante il suo sbarco volevo chiedere invece a Revelli sempre sul reddito di cittadinanza ma è diventata una questione filosofica il fatto di dover poter assistere chi ha di meno chi non è in grado di trovare il lavoro siamo in grado di assistere queste persone le persone devono farcela da sole l'Italia è un paese dove si può trovare lavoro ieri proprio mentre andava avanti la discussione qui in questo studio sul reddito di cittadinanza sono stati diffusi dall'Istat i dati sulla disoccupazione che è ancora in calo seppur di poco insomma come combiniamo il tutto è una questione filosofica o un governo ha diritto di scegliere come gestire queste risorse non è una questione filosofica è una drammatica questione sociale sulla quale vengono dette quotidianamente un gran numero di cose false di fake intanto non è vero che il reddito di cittadinanza che poteva essere fatto meglio sicuramente ma non è vero che fallì ha salvato dalla povertà assoluta in una condizione di povertà assoluta più di un milione di persone abbiamo perso il collegamento con Revelli cerchiamo di metterlo a punto e poi torniamo perché stava dicendo una cosa interessante intanto è arrivato Papa Francesco facciamo vedere le bandiere che sventolano dalla cabina di pilotaggio un attimo fa ora il sagnare è tornato sulla pista ma insomma eccolo qui l'aereo appena atterrato credo che in giornata continueremo a seguire il Papa durante questa importante visita lo ricordiamo l'incontro con i giovani per la giornata mondiale della gioventù nell'attesa di recuperare Marco Revelli e chiedo la stessa cosa anche a Andrea Cangini diverse questioni ma su questa del reddito di cittadinanza il governo ha un diritto di scelta anche se è chiaro che si tratta di un problema sociale di una bomba sociale che va a toccare molti italiani e poi si ripercuote sul territorio si tratta di una misura annunciata sin dalla campagna elettorale inserita nella scorsa legge di bilancio mal gestita perché poi ci si è dimenticati del provvedimento e la comunicazione via sms obiettivamente è stata sconveniente diciamo però è vero che non ha funzionato l'obiettivo del reddito di cittadinanza era quello di inserire nel mercato del lavoro chi non aveva lavoro ti sostengo finché non riesco ad inserirti ecco su questo vi ricordate c'è stato un rimpallo di responsabilità già due anni c'è stata la più colossale operazione clientelare della storia repubblicana l'assunzione dei navigator fu una colossale operazione clientelare c'è stato i diversi anelli che non hanno funzionato prima i navigator poi le agenzie sul territorio il fallimento è oggettivo poi se c'è un problema di povertà ci sono mille strumenti alcuni già c'erano il reddito di inclusione il REI che fece il governo Gentiloni ogni forza politica aveva proposto nelle scorse campagne elettorali qualcosa di simile quindi ci sono mille modi per sostenere chi non riesce ad arrivare a fine mese e non può lavorare è chiaro che il lavoro lo crei facendo leva sul PIL sull'economia agevolando le imprese ad assumere non lo crei per decreto ma l'altro tema anche perché nel 2019 si era detto che il correddito di cittadinanza si era abolita abolita la povertà mi pare che sia il fallimento sia totale abbiamo recuperato l'audio di Marco quello è un tema colossale che l'è dell'interesse nazionale più di ogni altro il tassista è l'interfaccia tra il turista e il paese se non c'è il taxi o se il tassista non è più che corretto è il paese che ne risente in questa fase che abbiamo picchi di turismo mai visti abbiamo una crisi del servizio pubblico è un servizio pubblico andiamo verso altri picchi esattamente un anno fa io me lo ricordo perché ero in senato il senato era scinto d'assedio dai tassisti scoppiavano le bombe carte c'erano i fumogeni e la scelere schierata Salvini era dalla parte dei tassisti che ne difendeva le ragioni ora la Nemesi vuole che sia lui a doverne rispondere magari fosse vero e spero che sia vero credo che sia vero che ha cambiato radicalmente perché c'è solo un modo per risolvere il problema un modo inerogliano e liberale rompere il monopolio e introdurre nuove licenze andiamo a proposito di Papa verso un altro giubileo che porterà a Roma un numero ancora più grande di turisti e dunque 7 mila solo nella capitale prima interfaccia come giustamente ricordavi con i turisti un numero che francamente appare molto molto limitato lasciamo concludere il ragionamento anche a Marco Revelli abbiamo ripristinato l'audio Revelli ma si continuano a dire cose non vere non è vero che il reddito di cittadinanza è una misura in primo luogo destinata a indirizzare verso il lavoro e verso l'impiego degli strati sociali che non lo trovano non è vero in tutto il mondo il reddito di cittadinanza è in primo luogo una misura per limitare la piaga della povertà in parte la si può limitare indirizzando e aiutando le persone a lavorare in parte assistendole lo so che non vi piace la parola ma ci sono degli strati sociali quello lo continuiamo a fare che non sono in grado di autosostenersi e per i quali la povertà è una miseria ma non è stato abolito che non ha problemi economici anche che vive con dei lauti stipendi e da poco si è addirittura votato il vitalizio studi su quelli che hanno bisogno chiamandoli fattoli a nulloni assistiti gente che non vuole lavorare una parola è andato ed è destinato ad andare a gente che lavora ai cosiddetti working poor forse sapete cosa vuol dire a gente che lavora e nonostante che lavori non riesce purtroppo Revelli abbiamo riperso il segnale proprio sul più bello mi dispiace anche che la discussione si sia accesa nel finale quando dobbiamo chiudere purtroppo ci sono rimasti pochi minuti però non si possono dire bugie allora facciamo una cosa prometto che verrete rinvitati tutti quanti perché è un argomento che ovviamente tiene banco un argomento interessante un argomento che riguarda migliaia di persone e dobbiamo parlare in maniera più diffusa non nella coda della trasmissione c'è già Francesco Magnani che ci aspetta Francesco ti lascio la linea per sapere di cosa parlerete con il flash che riguarda Giorgio Meloni che alle commemorazioni che riguarda la stagione di Bologna ha detto uno dei colpi più feroci che il terrorismo sferrò in Italia buongiorno buongiorno Marco sì oggi 2 agosto noi dedicheremo una pagina a Bologna con il sindaco della città il primo sindaco nato dopo il 1980 e con due giornalisti di razza Piero Sansonetti direttore dell'unità e Gianni Barbacetto del fatto quotidiano ma ripartiremo dalle proteste sul reddito di cittadinanza seguiremo in diretta la manifestazione a Napoli la prima vera iniziativa con numeri importanti che sta sfilando per la città e gireremo invece per la città di Roma per verificare l'efficacia dei cartelli fuori dai distributori cartelli con il prezzo medio e ci domanderemo con i nostri ospiti perché la politica spesso si trova ad inseguire i problemi anziché prevenirli perché si trova spesso impreparata e in rincorsa con noi Davide Vecchi direttore del Tempo Fabio Martini Simona Malpezzi del PD Alessandro Morelli della Lega e ancora Alessandro Cattaneo di Forza Italia Davide Tabarelli Nobisma Energia insomma tanti argomenti che riguardano come dicevi tu i problemi di migliaia di famiglie che fanno i conti con un'inflazione che continua a mordere questo e tanto altro tra poco all'area che ti restate Marco bene grazie ci è rimasto solo il tempo di salutare Claudio Bertolotti collegato con noi la lista dell'ISP insieme a Marco Revelli chiediamo scusa anche per il collegamento insieme ai nostri ospiti studio Enrico Borghi Raffaele Nevi Andrea Cangini a presto per parlare ancora del reddito arrivederci a domani